Tiii ragazzi e bentrovati in questo nuovo video, io sono XZ su Baro Baracacacca e oggi siamo su Clop 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 e vabbè praticamente Clop sarebbe il nome che hanno dato al cavallo questo cavallo praticamente si chiama Clop no non è vero non si chiama Clop ma non lo so praticamente questo qua è come QWP praticamente devi fare più metri cioè devi fare più metri possibili cioè praticamente è come QWP quindi immaginate a QWP mi pare che sono arrivato mi pare a insomma va a tutto il record ed X di Burning Light e al posto di usare QWP bisogna vaffanculo non bisogna usare internet ok bisogna usare i comandi Clop no scherzavo bisogna usare i comandi HJKL e aspetta ma si possono usare i comandi Clop no si no no niente vabbè e vabbè iniziamo praticamente ok perfetto iniziamo con allora ci sta questo tizio qua che non vede l'ora di essere infilato quella corna nel culo e allora vediamo un po' allora H G aspetta H J K L aspetta aspetta un attimo no volevo fare una cosa no niente da fare aspetta volevo fare l'inchino si grandissimo madonna ma dove lo vedete un'acrobazia così guardate guardate mi posso muovere pure col corno madonna che acrobazia vabbè andiamo avanti e allora aspetta un attimo allora no vaffanculo mettiti in piedi che razza di cavallo sei no vaffanculo aspetta come si fa a risetta A R ok aspettiamo un attimo allora risentiamo allora capiamo capiamo allora H ok zampa di sinistra J P ok K invece quella a destra L ok allora H K L no aspetta un attimo allora H K no vaffanculo A K J ok K J K L K J K L si questo può funzionare si vai madonna raga sto camminando non ci credo sto sto camminando oddio no raga non ci credo sto camminando vai 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 si madonna no 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 vaffanculo no ma vaffanculo ma come cos'è vaffanculo si vabbè vabbè però almeno posso battere il record di quello che ho fatto di QVP vai madonna raga ma dove lo vedete un'acrobazia così no no non devi zappare la terra vai si madonna che pro che pro vai vai clap 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 no 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 vaffanculo ok no ok vai si dai continua così non ti mastuprar telefono ok vai aspetta no sto sbagliando no ok vai riprendiamo vai no 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 vaffanculo ma che come no 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 allora no aspetta un attimo ok ci siamo ci siamo già posso fare riprendi il ritmo di prima dai riprendi il ritmo di prima ok dai vaffanculo eh beh pezza è di merda ah cazzo c'ero quasi vaffanculo vabbè no 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 è vaffanculo ci rendi però è difficile dai cioè andiamo ok dai dai avanti non andare indietro non andare indietro si vai scammina cammina cammina si cammina cammina vai 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 si madonna che pro che pro no 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 ok vai continua così continua così continua così oddio la scalata la scalata e eh madonna ragazzi ma questo cavallo qui può andare alle olimpiadi porca puttana vai fai vedere chi sei fai vedere che tu vali di più del cavallo di napoleone no ma vaffanculo e vabbè però dai come cazzo si snoda le gambe il cavallo oddio ok dai dai che ci siamo dai 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 no 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 andiamo andiamo dai eh cazzo no dai no 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 e che cazzo vaffanculo andiamo ce la possiamo fare ce la possiamo fare dai 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 ok andiamo dai 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 no 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 cazzo ma dai ma non si ah ma vaffanculo cioè ogni volta che cado poi questo qua deve sempre commentare brutto stronzo di merda mmm e vaffanculo ma perché cade sempre questo oh oh madonna che pro che pro ok vai 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 dai si si aspetta voglio vedere se riesco a fare no riesco a fare proprio un cazzo ok dai vediamo se riesco a fare il move walk il move walk no lo riesco a fare il move walk aspetta aspetta si il move walk no vabbè non fa niente no 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 questo non è il move walk questo qua è una donna che sta per partorire vabbè ma chi se ne fotta ok vabbè lasciamo vedere vai 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 avanti no cioè raga immagina allora quando fa questa scena sembra che no non voglio essere stuprato no no aiuto aiuto sembra che tieni le fuoche in piante dai sembra che sta scivolando guardate sembra che sta scivolando però sto correndo guardate sto correndo a fuori di premere tasti a cazzo grandissimo di questo passo batterò anche il record di metti di QVP vai 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 no 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 vai 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 no no perché si sta sculacciando da solo dai con il corno con il corno i cornegadini andiamo vai 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 in questo così 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 ce la posso fare così ce la posso fare mio dio lo sto proprio incornare raga mi fanno male le dita no ma fa culo che cazzo fino a qua praticamente il mio record cioè praticamente dai ce la posso fare dai noi è difficile andiamo supera quella scalinata andiamo ok finalmente adesso non ti schianta no dai no 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 questo è difficile andiamo questo è difficile dai ce la posso fare dai andiamo no 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 vaffanculo vabbè vabbè raga faccio l'ultimo tentativo vabbè raga faccio l'ultimo tentativo poi basta perché cioè vabbè quella quella cosa è difficile vabbè ma chi se ne fotte vabbè dai corri 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 vaffanculo va allora dai andiamo dai 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 vai non è così difficile andiamo dai 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 andiamo sì ok vabbè ma che cazzo sto facendo raga non ha senso non ha senso non ha senso non ha senso ma vabbè ok dai vai guata oh madonna oh no vaffanculo eh porca pul ciole vaffanculo 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 vabbè volevo provare una cosa aspettate un attimo allora aspettate un attimo allora aspetta dovrei fare così aspettate un attimo sì no aspettate un attimo madonna questo è difficile aspettate un attimo sì no volevo fa dai aspettate un attimo vai adesso adesso vai 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 non devi non devi fare il muro vabbè anche se ci sono no 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 ok vai vaffanculo dai vabbè raga faccio l'ultimo faccio l'ultimo tentativo vai vai dai 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 avanti no tirati su ho detto tirati su tirati su ok vai dai dai avanti scavalca vai fai finta che ti stai mastoprando da sola sì vai dai 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 no scivola 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 vabbè vaffanculo vaffanculo vabbè raga concludo qui questo fantastico video alla qwp vabbè e noi ci vediamo alla prossima qui da xd commentate iscrivetevi e tanti likes ciao